Dopo il direttore con il mister influenzato il commento a Silvio Mercai autore di una doppietta Silvio una partita importante, una bella vittoria dell'Entella che fuori casa continua ad esprimersi veramente molto bene Sì, secondo me oggi è stata la nostra miglior partita sotto il punto di vista sia del possesso palla che del non possesso palla C'erano state veramente delle trame di gioco importanti Continuiamo questo trend di vittorie per accorciare i punti là davanti Sei uno che si è sempre guadagnato tutto sul campo Un anno fa di questi tempi piano piano in punta di piedi si cominciava a parlare anche di doppia cifra Il tuo rendimento sta andando di pari passo con la squadra, sei in un ottimo momento di forma Sì, forse ho iniziato un po' a rilento però penso di aver dato sempre il mio contributo alla squadra anche quando non segnavo L'obiettivo è sempre quello, l'anno scorso ho fatto 14 gol e quello di confermarsi prima e dopo quello che viene in più è sempre meglio Ecco, con il Marche, chiaramente spesso si dice che due giocatori così importanti possono in qualche modo prestarsi i piedi Mentre invece con Zamparo ho fatto una bella coppia, no? Sì, oggi soprattutto secondo me ci sono stati anche diversi scambi dove si è visto la nostra crescita e il feeling tra di noi Secondo me quando tutti e due lavoriamo per la squadra, ognuno dal massimo La squadra ne beneficia e noi pure Quindi siamo tutti e due dei bravi ragazzi e quello è l'aspetto più importante Che campionato è in generale? C'è una squadra che adesso chiaramente sta facendo da battistrada che è la Reggiana ma si può accorciare? Guarda, noi adesso l'obiettivo nostro è quello di fare sempre punti, tre punti soprattutto E sperare in un passo falso della Reggiana Dopo quando arriveremo ai sconti diretti lì sarà importante, lì secondo me si deciderà il campionato Grazie 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 Grazie